Te posso dir la verità? Eh dimmi, ma già ho capito che me vuoi dir Io sto a rosicare come una merda Eh lo so A momenti fanno il 2 a 0 Ma lo sai perché sto a rosicare? Eh perché? Perché la Roma spende il quintuplo Il quintuplo se non il De quello che spende la Lazio tutti gli anni Che cazzo abbiamo fatto noi quest'anno? Niente! Anzi, e come sei uscito dalla Coppa Italia? Ecco, stanno in finale De Coppa Italia Credo non è la prima volta negli ultimi anni Come ben ricordiamo Ciao e ben ritrovati Ciao Siamo tornati con questo nuovo video Ma c'è da dire che Milan stasera particolarmente assente Perché a parte Milan particolarmente assente nell'ultimo periodo Non solo in questa partita mi viene da dire Soprattutto in questa partita Oh, 10 giorni fa ci ha vinto 1 a 0 con la Lazio Seppur su ricordi che sì Eh ci ha vinto 1 a 0 Ma non è che abbia fornito sta prestazione Non me la ricordo Io mi scordo due cose talmente rapidamente Non aveva giocato granché Comunque In questa occasione che cosa succede? Succede che Milan nel primo tempo ha creato un'occasione con Calabria 3 minuti di recupero nel frattempo E va bene E poi se non mi sbaglio una con Suso Poca roba Fine Prima della fine del primo tempo La Lazio ha iniziato a spingere sull'acceleratore E' rientrata in campo con quel piglio Reina ha fatto un paio dei miracoli Ma poi a mio modo di vedere E potete anche dirmi No Per me non è così Scrivetelo nei commenti A mio modo di vedere La Lazio ha giocato un po' meglio Specialmente nel secondo tempo Un po' Molto meglio E ve lo dico da tifoso della Roma Quindi Da persona Penso Credo Obiettiva Ci fate sapere voi Che cosa ne pensate Nei commenti Ma l'abbiamo detto Chi ha segnato la Lazio E' passato il vantaggio Nel secondo tempo Con un gol di Correa Un tiro di punta Ma bellissimo Nel primo tempo Ti sei perso uno scambio Sempre di Correa Con Immobile 1-2 Tattà In area di rigore Salta tre giocatori Tira E Reina che gli si oppone In una maniera incredibile Tu non l'hai visto Non l'ho visto Ma pure adesso Reina Però ecco Bastos Che ha fatto un tiro fuori De in centimetro Col piede Detesta Si è mangiato un altro gol Insomma Le occasioni per la Lazio Sono state tantissime Domani sera ovviamente C'è Fiorentina C'è Fiorentina Atalanta Fiorentina L'andata è terminata 3-3 Quindi Chi sta in vantaggio Eh sta in vantaggio L'Atalanta Per i gol di trasferta Abbiamo fatto il gameplay Già l'ho spoilerato Su Instagram Domani 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 alle 14.05 Su Youtube Secondo te Fammi un pronostico A sto punto Su Fiorentina Atalanta O Atalanta Fiorentina La finale sarà Lazio Atalanta Si Finale Atalanta Lazio Lazio Atalanta E fu così Che la Fiorentina Vinse 18-0 Io lo auguro Cioè io lo auguro No io no Ti posso dire la verità Io voglio Io voglio Che l'Atalanta arrivi in finale E che la vinca Ma non perché C'è la Lazio adesso In finale A prescindere Anche se fosse passato il Milan Io tifo Atalanta Semplicemente perché Sto gruppo Sta dimostrando Veramente grandi cose Una rosa Che comunque Un trofeo Dici lo meriterebbe A prescindere Ma si Ma si Ma si sono venduti Una marea di giocatori Li hanno rimpiazzati Il gioco è fenomenale Ma se ricordiamo L'Atalanta quest'anno Come è partita Ragazzi Che era un po' schifo Sì ma Hanno iniziato La preparazione Sì ma hanno iniziato La preparazione a luglio Hanno iniziato La preparazione a luglio Poi il problema Europa ce va Non ce va Ragazzi miei La partita praticamente È finita Secondo me comunque È meritata Ma ripeto Mero del culo Da tifoso della Roma Ma gliene vanno dati i meriti Perché evidentemente Sono una società Che sono più in grado Anche non spendendo Cifre incredibili Cifre importanti Alla fine De portare a casa I risultati Questi si portano a casa Non se lo porteranno Il trofeo O se lo porteranno Anche dovessero perderlo In finale Tanto ci sono arrivati E tu che fai? Stai rischiato E non arriva a quarto Sei uscito da tutte le coppe Non pretendevo Dalla Champions Deve vincere la finale Ovviamente Ma almeno in Coppa Italia Non dico tanto In semifinale Ce devi arrivare Non ce sei arrivato E questo è quanto Comunque già arriva a sto punto Per la Roma Non dico che sarebbe stato Un traguardo Perché negli ultimi anni La Roma In Coppa Italia Ragazzi Un disastro Dietro l'altro Comunque complimenti a voi Ecco qua Fischia In questo momento Giusto così Fateci sapere Che ne pensate nei commenti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao